ciao a tutti sono andrea quartarone next nexus è il mio nuovo album esattamente l'undicesimo diverso rispetto alle produzioni precedenti chi conosce la mia musica sa che appunto i miei precedenti album spaziano appunto dalla jazz alla fusion al rock insomma comunque alla musica anche acustica quest'album invece è una fusione di elementi di progressive con il rock e con la fusion quindi ripeto una connotazione stilistica per me nuova e quindi anche ovviamente per gli ascoltatori compagni d'avventura per quest'album sono degli straordinari musicisti di caratura internazionale tra cui at manur e thomas lang alla batteria rick fierabracci e stewart m al basso alessandro bertoni alle tastiere greg gau martin miller e andrea nieri alle chitarre per alcuni soli in esattamente tre brani appunto presenti nell'album l'album sarà presente all'interno del mio store e quindi è possibile ordinare la copia fisica affidata ad amazon per quanto riguarda la distribuzione mondiale ed è possibile anche fare il download attraverso le piattaforme di itunes e di amazon music ed è presente anche gratuitamente con una traccia all'interno di spotify e apple music quindi tutte le varie piattaforme di streaming musicale che dirvi acquistatelo buon ascolto ciao ciao